Ciao a tutti, l'incredibile tecnica per ignorare un uomo, riattirarlo. Allora, in questo video voglio spiegarti una tecnica incredibile per ignorare un uomo e quindi riattirarlo a te. Prima però iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi cara Malgasciona sul canale e seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate ma c'è la PNL quindi non puoi perderti assolutamente il corso della PNL, assolutamente non puoi perdertelo. A meno di 10 euro al mese PNL per Tictioner vai a vedere quanto costano in giro e potrai vedere se ti conviene farlo o no. Poi c'è l'abbonamento top con video registrazione di seminari dal vivo e poi in più c'è praticamente le registrazioni dei seminari appunto che ho fatto dal vivo, poi c'è l'abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica e c'è l'abbonamento live a un caffè al mese per partecipare alle live che ti consiglio anche quello. Ma adesso veniamo al tema, veniamo al tema e il tema è quello di ignorare un uomo. Ignorare un uomo e con questa incredibile tecnica che ti permetterà di, diciamo, di ignorarlo nel modo giusto e poi riattirarlo. Intanto, beh, quali sono gli uomini che vanno ignorati, che devi ignorare? Beh, sono quelli che non ti danno quello che vuoi, quindi indipendentemente da cosa sia quello che vuoi, gli uomini che non ti danno quello che vuoi, devi ignorarli, perché se tu non li ignori, non otterrai assolutamente nessun risultato positivo, quindi la forza è quella di ignorarli, devi proprio assolutamente ignorarli e una volta che li hai ignorati, devi farlo nel modo giusto, però qual è la tecnica per ignorare un uomo? Tieni presente che gli uomini ti testano, anche quello che ti porta al parcheggio del cimitero ti testa. In che modo ti testa? Per vedere se tu ci caschi come una locca, come una befana, cioè lui magari ti manda un messaggio, ti manda un messaggio e dopo due giorni tu scodinzolando rispondi. E beh, è evidente che se scodinzoli il primo messaggio che ti manda, lui ha testato, ha visto che il tuo allontanarti è un allontanamento fittizio, è un allontanamento fatto da una persona che non ha, come dire, forza, che non ha energia, che lo fa, è giusto perché deve farlo, invece ci deve mettere forza e energia. Quindi vedrai che lui inizierà a testarti e tu che devi fare non devi rispondere. Non devi rispondere, questa è la tecnica incredibile, per almeno tre messaggi non devi assolutamente rispondere. E poi dipende cosa ti scrive, perché se lui continua a scriverti Ciao bella, ci vediamo al parcheggio del cimitero, neanche dopo 150 messaggi devi rispondere. Dipende cosa scrive. Se ti manda dei messaggi consistenti, al quarto messaggio gli rispondi, ma facendoti vedere distratta, cioè dando una risposta comunque molto latente, molto laconica, devi considerare quante parole scrive lui, scrivere di meno, non rispondere assolutamente subito, ma rispondere dopo, se te lo manda ad esempio il quarto messaggio, te lo manda la sera, gli rispondi al mattino, te lo manda al mattino, gli rispondi la sera. Devi lasciare passare, diciamo, almeno una dozzina di ore, fondamentalmente, fondamentalmente, 12 ore. Però questo discorso, se lui non ti scrive, tu per almeno 21 giorni non devi scrivere niente. Non si tratta di un no contact vero e proprio, ma si tratta di ignorare, di dare indifferenza. Questo deve comportare il fatto che tu, nel frattempo, devi vivere la tua miglior vita. Devi veramente concentrarti su te stessa, non fare la solita disgraziata, la solita, come dire, poveraccia che non sa quello che fare. No, ma devi trovarti veramente a vivere una vita che possa essere una vita interessante per te, devi ritrovarti a vivere una vita che ti possa dare energie, che ti possa fare stare bene. Questo è quello che devi fare, se vuoi raggiungere dei risultati. Poi, un'altra cosa che devi fare è quella di iniziare a utilizzare i social. Perché Instagram, se tu non sei una professionista che lo utilizza per lavoro o per qualche azienda, per cosa pensi di usarlo? Per postare i selfie delle pizze sfigate che ti mangi? No, Instagram e i vari social devono servire per generare antagonisti. Perché o sei la Kardashian che fa un post e prende 500.000 euro, o che ne so, o sei una che lo utilizza appunto professionalmente, ma se sei una poveraccia che posta le foto, diciamo, della pizza e le foto della periferia della sua città, non serve, usato così Instagram. Instagram deve servirti per crearti un profilo interessante, per creare delle storie dove si possa evidenziare che tu hai una vita interessante, nonostante lui, e devi postare foto con altri uomini. E questo è il minimo che devi fare, foto, storie con altri uomini. Quindi vatteli a cercare se non li trovi. Inizia a interagire con tante persone. Inizia a frequentarli. È il minimo di postare delle storie dove ci sono altri uomini, delle foto, delle storie. Ma questo è il minimo che devi fare, dove sei sorridente, allegra e messa bene in tiro, non con femminile, al top della femminilità. Questo è quello che tu devi fare se tu vuoi ignorarlo nel modo giusto. Cioè lui non deve pensare che stai a casa a pensare a lui. Cioè non devi dare l'idea a questo. Questa non si fa sentire stare lì a casa a piangere, asciugarsi le lacrime. Ma non devi asciugartela davvero. Tieni presente che il mondo è pieno di uomini. Ce ne sono tanti. Se tu pensi che quello sia migliore degli altri, è una tua allucinazione. Pensa a quello che vuoi, è solo una tua allucinazione. Quindi smetti di avere allucinazioni e renditi conto del fatto che ce ne sono a milionate, se non per non dire a miliardate, di meglio di quello lì. Quindi se tu pensi che lui sia il migliore, è una tua allucinazione. Quindi cerca di uscire fuori dall'allucinazione. Cerca di non restare dentro questo sortileggio. E in questo modo vedrai che si ribalteranno i risultati. Vedrai che sarai rattratto da te. Ma soltanto se ti comportrai come dico io, perché se ti comporti come hai sempre fatto finora, beh, i risultati che ottieni sono risultati decisamente, saranno risultati decisamente scadenti. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, malgaciona, attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare con meno di 10 euro al mese, puoi partecipare al PNL Predictioner. È importantissimo. Potrai stravolgere completamente la tua vita. Vai a vedere quanto costa nei corsi di PNL Predictioner, malgaciona. Poi c'è l'abbonamento live da un euro per partecipare alle live, c'è l'abbonamento top, che in più ha le videoregistrazioni e seminari del vive, c'è l'abbonamento master consulting, che in più ha le consulenze telefoniche. Ciao a tutti!